... Anche Valo non sembrava! Fede l'ha provato? si, anche Fede ha trovato subito non credo ci tenga mi hanno pregato ma di mattina 8.30 da dove sono si, anche Fede ha trovato si, anche Fede ha trovato si, anche Fede ha trovato Grazie per la visione Grazie per la visione Quello che trasforma i video Eh non so, Robino mi aveva già detto un programma Che c'è più, il movie maker più potente Di quello che ho io Ah boh Eh però per ora non l'ho ancora scaricato Adesso uso ancora il movie maker vecchio Mi spira anche nella gobba Effettivamente in vita Ci sono un simolimo da scappo di pesca Poi c'è il bellissimo spoldi E un SC e un altro Che c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti.